Il caso 90 Padovana con le parole di Marcello Bano durante la cerimonia per il 4 novembre esce dai confini comunali e si inserisce nei rapporti tra gli alleati di governo, Lega e Fratelli d'Italia. In difesa di Bano si è schierato il leghista Roberto Marcato. Credo che un sindaco abbia tutto il diritto, visto che rappresenta i cittadini e rappresenta tutti i cittadini, abbia il sacro santo diritto di dire la propria idea. Su questo non ci trovo nulla di strano. Dopodiché credo che una riflessione sul valore che possono avere commemorazioni riguardanti guerre in questo momento sia del tutto legittima. Io trovo assolutamente anacronistico e disumano ancora oggi pensare che la guerra possa essere un elemento di riduzione dei conflitti o addirittura di soluzione dei conflitti. Non c'è nulla da festeggiare perché è una data che ricade dopo 650.000 morti italiani, ha detto Bano nel suo discorso, ricordando poi la terza guerra di indipendenza del 1866 e la fine del periodo risorgimentale in cui i veneti combattevano con le giubbe austriache. Le parole sono piaciute meno a Fratelli d'Italia che governano Venta Padovana insieme alla Lega, dato che il vice sindaco Nicola Canistraci è proprio di Fratelli d'Italia. Sulla vicenda è intervenuto il coordinatore regionale Luca De Carlo. Il sindaco quando si sbellica in lucubrazioni sul 4 novembre su posizioni che sono assolutamente non condivisibili dal nostro partito e che stigmatizziamo per assoluta visione limitata di un contesto importante per noi, per Fratelli d'Italia, per questa nazione. Il 4 novembre è il giorno dell'unità nazionale e quindi grazie a tutti quei milioni, migliaia di italiani che hanno combattuto e anche a tutti quelli che hanno perso la vita per regalarci questa nazione, l'Italia, la più bella del mondo e quindi non credo che possa essere un'uscita poco felice del sindaco Bano, che tra l'altro è un po' un provocatore, insomma è l'anima un po' più agit prop della Lega, a turbare quello che è invece un pensiero, una coscienza nazionale che ha fatto fatica a crescere ma che oggi è patrimonio di tutti, indipendentemente dai colori politici.